Lavoro e investimenti, le parole chiave di Maiovisitelmicam, la fiera delle calzature a Ro, il nodo è la competitività, il sistema Italia occorre continuare a puntare sull'export, osserva ma non basta, di fronte a una congiuntura sfavorevole alla guerra dei dazi è fondamentale rilanciare anche la domanda interna, ridare potere d'acquisto ai pensionati e a chi cerca lavoro, osserva come abbiamo cominciato a fare con quota 100 e reddito di cittadinanza. Adesso la nostra priorità è prendere tutti i soldi alla spending review e metterli su un abbassamento del costo del lavoro selettivo sulle imprese d'eccellenza, due, sbloccare i soldi degli investimenti attraverso una semplificazione del codice degli appalti. Di Maio guarda i sindacati che chiedono di essere ascoltati in questi mesi, dice non avremo risolto tutto ma chi ora sciopera contro quota 100 non scese in piazza contro la Fornero, giovedì vedrà i sindacati di Alitalia, a breve annuncia avrete novità sul dossier e sulla TAV ribadisce troveremo un accordo sullo sfondo. La polemica sul ruolo di Banca Italia e Consob, nessun attacco, osserva Di Maio diciamo solo che chi doveva vigilare non ha vigilato e se ci hanno votato il 4 marzo è proprio per una domanda di discontinuità. Nessun imbarazzo infine per l'incontro con i gille gialli, mi sembra una cosa normale, per un partito come il nostro che si prepara alle europee, spiace che Macron lo viva come l'Esa Maestà.